L'etichetta è un vero e proprio strumento di comunicazione, quel prodotto che in pochi centimetri quadrati deve suscitare delle emozioni tattili e visive. GraphiPrint nasce nel 2006, prima stampavamo l'etichetta in piano, stampavamo un po' nel settore del food e vedevamo comunque che i nostri clienti vicini stavano crescendo in maniera esponenziale, principalmente nel settore enologico e quindi perché non aiutarli a essere preziosi per loro e fare business noi. Dobbiamo essere belli e buoni e noi aiutiamo i nostri clienti ad essere quanto più performanti possibili per fare in modo che il cliente cada da comprare quella bottiglia. L'Accurable 190 ha cambiato la produzione da così a così, riusciamo a produrre quella qualità che i nostri clienti esigenti ci chiedono ma che noi vogliamo dare ancora di più. La prima bottiglia è venduta all'etichetta, la seconda bottiglia è venduta dal produttore, è un gran lavoro di squadra e collaborazione. Abbiamo la fortuna di produrre dei prodotti nella gastronomia che sono davvero prodotti di qualità reale e a questi diamo l'etichetta che meritano. Al prossimo episodio